E bella a tutti ragazzotti miei benvenuti in questo nuovissimo video sul canale Oggi vi andrò a spiegare brevemente come riscattare lo spray cane mangia cane E' molto bellino e per pochi passaggi perchè non averlo nel proprio armato di Fortnite Innanzitutto vi ricordo di entrare nel gruppo telegram che trovate in descrizione per avere tutti i link necessari per andare a riscattarlo Quindi entriamo su telegram questo qui ovviamente è il gruppo del canale E qui troverete tutti i link in primis raga questo qua l'ultimo che ho messo dell'Epic Games Per appunto che servirà per riscattare i codici Quindi andrete come primo passaggio a premere qua dentro dentro questo link che vi porterà in questa schermata dell'Epic Games Voi l'unica cosa che dovrete fare è fare l'accesso con il vostro account di Fortnite Io come potete vedere qua giù in fondo ho già fatto l'accesso E cosa dovrete mettere qui come inserisci il codice regalo Ragazzi è molto semplice ora ve lo faccio vedere Se andiamo su telegram e leggiamo, faccio anche vedere il video Mi fermerei se si può un secondo qua Riscatta il codice regalo per ricevere gratuitamente uno spray in gioco Per l'appunto si tratta dello spray cane mangia cane Quindi cosa dovrete fare? Come vedete qua c'è scritto A quanto pare Sky Sport ha lanciato questo spot durante il riscaldamento pre partita della serie A Roma Spezia Nello spot vengono rappresentate le nuove skin di calcio E alla fine ci dicono che riscattando il codice regalo su questo sito otterremo gratuitamente il nuovo spray cane mangia cane Eccolo qua ragazzi quindi dovrete entrare sul link Ora lo rifacciamo ma vabbè l'avrete già fatto E qui ragazzi attenzione attenzione Molto semplice Regalo Ecco fatto Io l'ho già riscattato Però vedete? Riscatto un codice Dog eat dog Cane mangia cane in inglese sarebbe Attiviamo Io l'ho già riscattato Quindi come potete vedere mi dà errore Però ragazzi se non l'avete fatto In questa maniera potrete andare a riscattarlo E quindi perché non farlo? Raga mi raccomando Andate tutti a riscattare questo codice dello spray ozzo E niente ragazzi Mini video Mini video illustrativo Spero vi piaccia Mi raccomando un bel like Con una bella iscrizione se ancora l'avete fatto Noi ci becchiamo Nella prossima live O nel prossimo video Da dei nomi Bella raga Ciao